L'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Piazza Verga, guidati dalla Procura della Repubblica di Catania, ha permesso di arrestare un uomo per vari reati, quali maltrattamenti, violenza sessuale e pedopornografia. Tutto il nucleo familiare, composto da tre donne e quattro minori, che vivevano in una situazione di assoluta promiscuità, era costretto a subire le violenze di quest'uomo. Le donne a prostituirsi, le figlie minori a subire abusi sessuali e un ragazzino era utilizzato per produrre materiale pedopornografico. Tutti i soggetti di questo nucleo familiare erano costretti al silenzio ed ogni tentativo di ribellione o di fuga da questo inferno veniva soffocato con ulteriore violenza da parte dell'uomo.